buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo una nuova settimana insieme oggi è lunedì 24 luglio 2023 abbiamo molte notizie è stato un weekend piuttosto intenso quello appena trascorso e quindi cominciamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di santa cristina da bolsena vediamo se riusciamo avere la grafica eccola qua santa cristina di bolsena figlia di un giudice persecutore dei cristiani un giorno fu sorpresa spezzare gli idoli del padre e distribuire i pezzi ai poveri apriti cielo il padre si arrabbiò e si arrabbiò moltissimo era un padre crudele ovviamente e cosa fece la fece battere con le verghe e poi la mise in prigione ma cristina non ne vuole sapere di abbiurare la sua fede e quindi ancora fu ancora perseguitata e purtroppo fu condannata a morte fu condannata a essere affogata con una pietra al collo nel lago di bolsena ma la giovane sopravvisse e allora altri martiri alla fine morì trafitta dalle frecce degli arcieri insomma santa cristina una martire che ha così accusato con il dolore e la sua fede e quindi è stata è stata fatta santa vediamo le previsioni del tempo giriamo alla grafica e vediamo che la regione Marche si divide un po in due la parte settentrionale con qualche goccia di pioggia il che non stona la parte sud invece è ancora con un sole appena velato da qualche nubi comunque il tempo è stabile ma con nubi medio alte di passaggio nel corso della giornata le temperature sono in aumento la minima è 24 gradi la massima non ve la dico perché è veramente eccezionale no ve la dico sono 38 gradi e quindi farà un caldo veramente forte anche nella giornata di oggi i venti sulle coste espirano da sud ovest nell'interno da ovest nord ovest e quindi questa è la situazione ancora una giornata estiva sperando in una pioggia che mitighi un po la calura estiva questo per quanto riguarda la previsione del tempo ma noi andiamo a chiedere conferma a un nuovo concessionario di spiaggia che starà con noi per tutta la settimana si tratta di Gianluca Guidi dei bagni di sassi sotto Marotta buongiorno Gianluca buongiorno buongiorno a voi buongiorno a tutti senti stamattina quando sono venuto in redazione sono stato colto io vengo in bicicletta sono stato colto da qualche goccia di pioggia ha fatto così anche a Marotta stamattina si effettivamente anche qui ha fatto qualche goccia di pioggia due tre gocce ma non è quella che speravi e dicevi anche tu che porterà sollievo anzi queste sono quelle 4 5 gocce che aumentano solo il tasso di umidità e fanno sì che la temperatura percepita sarà ancora più alta di quella che dicevi sui 35 37 che sono sui orari 40 ma tutti la percepiremo con ancora più alta quindi sarà una giornata fastidiosa penso che si starà bene solo al mare benissimo in acqua bisogna andare a fare il bagno e stare in acqua così si sta un po freschi senti ci parli un po di questa spiaggia i sassi sotto Marotta è il fatto del titolo significativo per l'assetto della spiaggia vero sì esatto qui per noi fanesi insomma è come la sassonia qui a Marotta abbiamo questa spiaggia diciamo nella zona nord della foccia del cesano che si ripete come la sassonia quindi ciotoli e via dicendo che diventano sempre più fini fino a diventare sabbia ma siamo già torretti insomma la parte nord di la parte nord di Marotta poi torretti sassi eccetera senti avete avuto anche voi quest'onda anomala che sabato ha investito un po' la costa pesarese e fanese sì i colleghi mi dicono che si è sentita ecco dal da pesolo fino a senigallia grazie a dio qui il livello diciamo dove dove mi trovo adesso in confronto al mare è abbastanza alto quindi l'onda ci è fermata qui a ridosso della prima fila e non ha creato altri disagi tra gli ombrelloni come magari in altre situazioni dove il piano è più è meno inclinato quindi più dritto e di conseguenza il mare arriva più più in alto senti ti fermi un attimo perché abbiamo una super esposizione alla luce in modo che eh scusate ecco ecco così volevo farvi vedere un po' i 360 gradi ho capito così è meglio senti ma questo fatto è un fatto unico che si è verificato nel corso del tempo oppure ci sono anche dei precedenti no in realtà ci sono sempre ci sono sempre verificati questo è stato diciamo come intensità più più alta degli altri eh dopo ci sono colleghi che hanno varie teorie io ho sposato quella che comunque quando c'è il cambio di marea queste onde si formano sempre queste sono state probabilmente alimentate da quella ha dato anche una sventata tanto vi sarete accorti un po' tutti ha dato una grande sventata quindi secondo me queste sono queste queste onde del cambio di marea sono state alimentate un po' dal dai venti che erano intensi tant'è che hanno anche diverto qualche ombrellone qui da me e quindi hanno preso forza e volume creando quello che è stato il disagio un po un po per tutti benissimo Gianluca grazie per questo primo approccio è stato bello vedere il cielo azzurro il mare azzurro i tuoi ombrelloni azzurri quindi veramente una sinfonia di un bel colore un bel colore estivo grazie ci sentiamo domani buona giornata ok riprendiamo la linea ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal corriere adiatico sulla pagina di Fano e parliamo di eventi tante manifestazioni che si svolgono a Fano durante l'estate che attirano turisti e fanno da intrattenimento a coloro che già sono nelle nostre spiagge vediamo quanto costano questi eventi tutto compreso per tutto l'anno ovviamente il comune di Fano spende un milione di euro non è poco ma questo milione produce un effetto moltiplicatore perché poi attira tanti altri sponsor tanti altri investimenti che rendono queste manifestazioni molto importanti l'assessore lucarelli bisogna estendere le iniziative nei lungomari da Fosso Seiore a Ponto Sasso ebbene ci sono ovviamente dei posti dove queste manifestazioni si concentrano come le spiagge del Lido di Sassonia di Fano ma in realtà meritano anche altre spiagge in modo particolare quelle al sud del fiume Metauro dove si concentrano gli alberghi e anche i campeggi quindi è lì che c'è il vero turismo ed è circa un milione di euro la cifra che l'amministrazione comunale investe per finanziare gli interventi di interesse turistico nella città di Fano e vediamo un attimo come si articolano questi investimenti per il carnevale il comune offre 130 mila euro per il festival passaggi 100 mila euro per la Fano dei Cesari 80 mila euro per il Brodetto Fest 90 mila euro e poi ancora per il Fano Jazz by Desi che è in atto proprio in questi giorni 100 mila euro per la stagione teatrale un contributo alla fondazione teatro della fortuna 500 mila euro altre 100 mila euro l'amministrazione comunale l'investe nella settimana di dicembre per tutte le iniziative di natalizie e poi ci sono tutte quelle feste di quartiere che sembrano limitate alla circoscrizione in cui si svolgono in realtà poi attirano tanti tanti turisti anche dal centro storico ma alcune anche da fuori provincia per esempio oggi è terminata la proprio in questi ieri diciamo così ieri sera è terminata la festa della crescia matta a tre ponti una festa che in tre giorni ha veramente attirato possiamo dire quasi oltre un migliaio di persone per il buon cibo perché l'enogastronomia è una fonte di attrazione che è diventata una delle primarie per quanto riguarda il turismo fanese la gente ricerca il cibo a chilometro zero la ricetta tipica la ricetta tradizionale ebbene l'oca in porchetta di tre ponti è stato veramente una sinfonia della enogastronomia della culinaria locale e poi c'è anche la festa del fritto di tombaccia oppure la festa dei fagioli e della trippa di centinerola sono iniziative molto importanti che vengono realizzate soprattutto grazie al volontariato vediamo ora la notizia a fondo pagina del corriere adriatico e si parla di un intervento che ha fatto il preside del liceo classico del liceo nolfi a polloni diciamo meglio samuele giombi samuele giombi ha notato che in due punti della città del centro storico sia al pincio che in piazza ammiani si concentrano dei giovani il cui fare non è certo limpido e sereno si tratta di giovani che schiamazzano che forse si abbandonano anche all'alcol e a qualcos'altro e quindi giombi attira l'interesse l'attenzione sia delle istituzioni che delle forze dell'ordine è un problema difficile da risolvere lo ammette lui stesso le istituzioni hanno pochi mezzi a loro disposizione per risolvere questo problema comunque qualcosa bisogna fare soprattutto attira l'attenzione della città perché poi se tutti i cittadini convergono su questo problema una soluzione si trova sono giovani questi che sono sul margine della devianza e quindi hanno un'alternativa o tornare indietro oppure andare avanti e delinquere e questo ovviamente è un punto critico che la società le famiglie la scuola deve risolvere un problema che viene posto all'attenzione da samuele giombi giriamo ancora la pagina e vediamo un altro articolo di apertura abbiamo una presa di posizione dell'ex soprintendente ai beni culturali archeologici gabriele baldelli che per il resto è un fanese al progetto che è stato illustrato nei giorni scossi dell'ampliamento del museo un ampliamento che incide profondamente sull'aspetto della corte malatestiana con la realizzazione di un nuovo edificio di collegamento tra vediamo qui la fotografia il palazzo malatestiano e palazzo dei cupis in parte coperto dalla fotografia di gabriele balbelli ebbene il nuovo progetto prevede la realizzazione di un edificio con un giardino pensile sul tetto dove svetterebbero degli alberi ebbene questo progetto ha suscitato la contrarietà del superintendente che dice ebbene la corte malatestiana nel corso dei secoli è stata modificata più volte ma non è detto ormai che bisogna continuare a modificarne l'aspetto perché l'ampliamento del museo si potrebbe benissimo ottenere mettendo a disposizione gli edifici della fondazione cassa di risparmio e della banca il credit agricole l'ex cassa di risparmio di fano cassa di risparmio di fano che potrebbe trovare benissimo un'altra sede mentre la fondazione potrebbe emigrare a palazzo zagarelli che la stessa ha restaurato sta restaurando lasciando libero tutta quell'ale a tutta quell'ala di della corte malatestiana pertinente alle cantiche case dei malatesta che potrebbe fungere benissimo all'ampliamento del museo senza stravolgere l'aspetto della corte stessa ebbene è una proposta il dibattito poi continua perché ci sarà un'altra riunione il 31 agosto prossimo ai cittadini potranno dire la loro ogni volta che un progetto innovativo viene presentato è naturale che desti dei delle discussioni e proprio per questo l'amministrazione comunale lo ha presentato ai cittadini non ci sono ancora i soldi per realizzarlo quindi è bene che alla fine si concordi su una soluzione univoca accettata da tutta la città con la veleggiata il rotary raccoglie 5.000 euro una bella iniziativa questa organizzata dal rotary club di fano che ha organizzato una gara di vela intitolata la vela che unisce è la seconda edizione di un progetto che ha nuovamente impegnato il sodalizio a sostenere iniziativa in campo sociale e solidaristico 5.000 euro sono una cifra abbastanza importante per impegnare nel sociale passiamo ora a san lorenzo in campo il padel un nuovo sport che sta veramente furoreggiando tra i giovani ma non solo tra i giovani è uno spot che conquista è stato inaugurato a san lorenzo in campo un nuovo campo una bella sinergia tra pubblico e privato inoltre grazie al nuovo parco giochi dedicato al piccolo mattia il bambino purtroppo che è deceduto in seguito all'alluvione e l'area a fianco del padel siamo passati ha detto il sindaco davide dellonti da 600 metri quadrati destinati ai bambini ad oltre 1200 metri quasi raddoppiati con diversi nuovi giochi ed attrezzature il padel sta spopolando a san lorenzo in campo anche grazie all'impegno della famiglia valtroni e ha deciso di intraprendere questa bella avventura appunto abbiamo detto una realizzazione fatta grazie alla collaborazione tra pubblico e privato vediamo senigallia a senigallia si è svolta l'assemblea dell'unione tra i comuni ma ci sono disparità tra l'uno e l'altro stesse mansioni stipendi diversi nervi tesi all'unione dei comuni i dipendenti sono in stato di agitazione per ticaroli e olivetti due sindaci niente sper equazioni serve pari trattamento ebbene che cosa è accaduto è accaduto che nell'unione dei comuni a parte tre dipendenti assunti di cui uno in aspettativa c'è in servizio gran parte di personale preso in prestito assegnato dai singoli enti ciascuno contribuisce con il personale proprio ovviamente lo stipendio base è uguale per tutti come prevede il contratto nazionale collettivo però ci sono i compensi accessori come le indennità di posizione le produttività che sono diverse sono differenti e beh se c'è l'unione dei comuni ci dovrebbe essere un'unione anche di queste cifre ecco perché i dipendenti avevano minacciato addirittura uno sciopero e quindi si sta vedendo di parificare i diritti di tutti in modo equilibrato vediamo ora la pagina di apertura del corriere adriatico che è dedicata alle prese di posizione di diversi concessionari di spiaggia abbiamo visto prima gianluca guidi mostrare la sua concessione dei bagni i sassi sotto marotta ora vediamo altre posizioni di bagnini da siamo da gabice diciamo così fino a san benedetto del tronto ebbene ci sono due problemi importanti uno è l'incubo bolkestein che aleggia sopra le teste dei concessionari di spiaggia da molto molto tempo e poi c'è questo meteo impazzito che alterna veramente giornate caldissime affose a momenti in cui la natura si ribella e abbiamo onde anomale abbiamo trombe d'aria abbiamo temporali disastrosi e grandinate con chicchi grossi come palle di tennis abbiamo prese di posizione di mauro mandolini titolare dei bagni di torrette anche presidente dell'associazione che tutela e i diritti dei concessionari di spiaggia della provincia di peso rubino che dice che l'amministrazione non è attenta al decoro e poi mancano i servizi mentre filippo borioni dei bagni 77 una comunicazione sbagliata sul meteo fatturato a meno 20 e sono importanti le previsioni del tempo che vengono fatte perché in base a quest'ultima i turisti poi quelli che decidono all'ultimo minuto vanno da una parte oppure vanno dall'altra e se poi queste previsioni non si verificano a essere danneggiate sono quegli operatori che insistono in quella zona dove invece della pioggia c'è il sereno e quindi bisogna stare molto molto attenti Marco Scarpetta di Civitanova siamo partiti tardi ma il vero dramma resta alla Bolkestan Fiorenzo Talamonti di Porto Santo Elpidio con il caldo torrito in tanti rinunciano a venire in spiaggia mentre Sergio Rossi di Porto Dascoli molti bagnanti e molti i bagnanti e sono aumentati i turisti stranieri e quindi qui c'è una previsione ottimistica per sull'andamento della stagione vediamo ora un articolo che riguarda l'apertura della pagina pesarese e vediamo come si parli del consiglio d'amministrazione di marche multiservizi basato sul problema della discarica di riceci consiglio di amministrazione ad alta temperatura dice il titolo Mezzolani arriva in corsa convocato alle 17 di oggi nella sede dell'azienda dei servizi per discutere la strategia di uscita dal progetto della maxi discarica la surriga di Pedinelli l'ex sindaco di San Costanzo si vota stamattina la commercialista Berti candidata alternativa all'ex assessore vediamo quali sono i piani in discussione abbiamo il piano A che realizza un maxi impianto per smaltire 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali in 25 anni a riceci e il piano B che è un progetto alternativo alla maxi discarica per rifiuti speciali in questo caso si realizza un impianto per la lavorazione dei rifiuti da recuperare oppure un ampliamento della discarica di ca asprete e ovviamente tra i due c'è una grossa differenza la si violenta un territorio vergine qua invece si cerca di contenere appunto l'impatto ambientale l'impatto sul territorio la destra sbatterà di nuovo il muso il vecchio pala sarà un altro schiaffo è una dichiarazione del sindaco di pesaro matteo ricci a conclusione del festival dell'unità che si è svolta nella città di rossini ricci chiude la festa e affronta gli scenari del 2024 quando poi ci saranno le elezioni il rinnovo appunto dei consigli comunali e anche delle giunte ecco perché pesaro non sarà un'altra ancona dice ci sarà una linea di demarcazione per quanto riguarda l'avanzata del centro-destra secondo ricci a confronto con il direttore del corriere adriatico giancarlo laurenzi i temi affrontati sono stati quelli della prateria politica ovvero il pd versus contro il governo dalle battaglie potenti come quella sul salario minimo capace di ricompattare l'opposizione e quelle pionnose legate alla riforma della giustizia soprattutto nel post berlusconi ma il planare sulle questioni locali dal comune alla regione e sui fronti aperti era un richiamo troppo forte per non essere rilanciato quindi si è parlato dei grandi temi a carattere nazionale soprattutto per fronteggiare l'avanzata del centro-destra che sembra molto molto agguerrito e poi si è parlato anche dei problemi locali e dove ricci intende arginare appunto l'offensiva del centro-destra e poi a fondo pagina vediamo come il restauro della madonna dei capuccini questa statua che è un po' l'effigie di quanto è accaduto con il terremoto che ha un po' sconquassato anche la nostra provincia sta iniziando è un intervento molto caro sollecitato dai pesaresi devoti a questa statua alla parrocchia dei capuccini che si trova nei pressi della stazione ferroviaria e quindi anche un ritorno per il vecchio per il vecchio stabile ebbene abbiamo finito di dare un'occhiata al Corriere Adriatico e quindi anche se c'è una edizione ridotta vediamo quello che dice il resto del Carlino e il resto del Carlino evidenzia voglio segnalarvi questa notizia è stata fatta una foto di un bagnante che faceva il bagno a Sassonia e guardate che cosa è venuto fuori questo è il bagnante e qui accanto a lui appare una pinna e si dice che è una pinna di uno squalo siamo a 4-5 metri dalla riva tuffo con sorpresa spunta una pinna di squalo nella foto del turista il biologo il professor Corrado Picinetti dice che è possibile potrebbero essere delle ventresche che si sono avvicinate alla spiaggia sembra che siano inocue però insomma questa pinna è abbastanza di grandi dimensioni e certo non va piacere trovarla a contatto mentre a Urbino si sta lavorando per ridurre i disagi della inagibilità della camera mortuaria ridurremo i disagi ha detto la direttrice Mazzanti dopo le proteste dei cittadini e con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti